Marino Marrocu, vi parlerò degli aspetti delle previsioni meteorologiche fatte mediante l'ausilio del calcolatore che per lo specifico problema della propagazione degli incendi rivestono un'importanza notevole come già si è capito dalla presentazione di Luca e anche di Eva. Di questo aspetto della meteorologia numerica al CRS4 me ne occupo io, Gabriella Pugeddu, e per il specifico aspetto legato alla propagazione degli incendi se ne è occupato Antio Covargiu quando era borsista master in becca al CRS4. Un breve sommario della presentazione che servirà anche come trama per seguire il filo logico della stessa. Io ho fatto una presentazione con l'idea che ci fossero molti studenti a seguirla, quindi ho cercato di essere un po' didattico, quindi scusatemi se magari dirò delle cose o troppo specifiche, però diciamo che la presentazione tanto dura poco più di mezz'ora, quindi non andremo nel dettaglio di niente. Cercheremo solo di dare delle idee su un po' su tutto quanto. Quindi dicevo, parleremo brevemente di quelle che sono le equazioni che regolano il moto del fluido atmosferico e quindi consentono una volta risolte di ottenere l'evoluzione nel tempo dello stato dell'atmosfera e quindi di fare le previsioni meteorologiche. Brevemente cercherò di far capire in che cosa consiste la risoluzione numerica di queste equazioni e questo mi servirà più in là per introdurre alcuni aspetti legati all'utilizzo della tecnologia FPGA di cui parlerò più avanti, per la risoluzione di questo specifico problema. Come già Luca ha messo in evidenza, è chiaro che per avere previsioni di dettaglio dei campi di vento o anche di umidità e temperatura occorrono, più è alto il dettaglio, più è alta la potenza di calcolo di cui si deve disporre e quindi scaturisce una necessità di avere a disposizione mezzi di calcolo ad alte prestazioni. Ed è questo uno degli aspetti appunto della presentazione e vorrei parlare brevemente di questa tecnologia e delle prospettive diciamo che il CRS4 potrebbe offrire a studenti o stegisti per portare avanti un argomento di ricerca in questo settore. Concluderò la presentazione mostrando lo stato attuale del portale web che supporta l'applicazione di propagazione degli incendi. Chiaramente è un portale in fase del tutto sperimentale, di sviluppo, migliorabile, implementabile con conoscenza ulteriore e solo in piedi per scopi dimostrativi. Farò delle conclusioni e darò dei potenziali sviluppi a questa ricerca. Mi piace sempre iniziare la presentazione dell'argomento della meteorologia dando alcuni cenni storici brevissimi, giusto per capire che alla fine si tratta diciamo di un argomento relativamente nuovo per come viene sviluppato al giorno d'oggi. Le equazioni differenziali che regolano il moto atmosferico sono state formalizzate nel 1904, solo nel 1904, da questo scienziato danese, Bjergmes. Lui l'ha formalizzato come un problema ai valori iniziali, cioè un problema in cui conosciuta lo stato iniziale dell'atmosfera e per stato iniziale intendiamo i parametri che definiscono lo stato dell'atmosfera, quindi direzione e intensità del vento, temperatura, pressione, distribuzione dell'umidità. Conosciuto lo stato iniziale, la soluzione di queste equazioni differenziali consente di ottenere lo stato a istanti successivi e quindi di conoscere come evolve il tempo. Il primo tentativo serio di risoluzione di queste equazioni differenziali fu fatto durante la prima guerra mondiale, manco a dirlo per scopi bellici, ad opera di Richardson e per motivi che adesso non abbiamo il tempo di analizzare fu un fallimento completo. Si dovete aspettare la fine degli anni 40 per avere la prima previsione numerica meteorologica diciamo corretta, formalmente corretta, e questo fu fatto ad opera specialmente di Von Neumann utilizzando il primo grande calcolatore della storia che era ENIAC, che fu fatto nel 1945. Allora, alcune cose appunto di carattere generale riguardo alle equazioni che regolano il moto del fluido atmosferico. Quindi ciò che noi vogliamo andare a vedere è come varia lo stato di moto del fluido atmosferico. Come sappiamo dalle leggi fondamentali della dinamica, una variazione dello stato di moto è dovuta all'azione di forze. Le forze che agiscono in atmosfera sono le forze d'attrito, la forza di gravità e una forza questa, che è la più importante, che è quella che mette in moto il fluido atmosferico da punti a pressione più alta verso i punti a pressione più bassa. A loro volta le variazioni di pressione in ambito atmosferico sono dovute al riscaldamento differenziale da parte del sole sull'atmosfera. E questo può dipendere dal succedersi del giorno e della notte o anche solo dal differente latitudine, o dalla presenza o meno di nubi e così via. Questa, diciamo, questa equazione abbastanza banale è leggermente complicata nel sistema di riferimento terrestre poiché la Terra gira su se stessa. Quindi si tratta di un sistema di riferimento non inerziale in cui appare una forza che non esiste in un sistema di riferimento che guardi le cose dall'esterno. Questa forza dipende dalla velocità del vento, in sostanza, e dalla velocità angolare con cui la Terra ruota su se stesso. Alla fine, diciamo, ricomprendendo tutti i termini, uno ottiene questa equazione differenziale in forma vettoriale. E questa, in sostanza, regola la dinamica del moto atmosferico. Le metto solo a scopo illustrativo, diciamo. Queste equazioni qua, una volta messe in un sistema di riferimento terrestre, in cui anche gli assi di riferimento ruotano insieme alla Terra, si complicano ulteriormente. Si trasformano in equazioni scalari, una per la componente X della velocità, una per la componente Y della velocità, una per la temperatura, una che esprime il principio di conservazione dell'acqua, cioè il vapore d'acqua o l'acqua sotto forma liquida o di ghiaccio, in atmosfera può cambiare stato, precipitare, eccetera, ma complessivamente si conserva. E poi un'equazione, questa, che descrive l'andamento della pressione superficiale al suolo, che in una certa approssimazione è essenzialmente dovuta esclusivamente all'affluenza o, diciamo, alla convergenza o alla divergenza di massa lungo la verticale. Dentro queste equazioni, che sono 5, ci sono più incognite, un numero di incognite maggiore di 5, quindi c'è tutta una serie di relazioni diagnostiche e alla fine si ottiene un sistema di equazioni con n equazioni in n incognite, detto molto schematicamente, chiaro che ci sarebbe da approfondire, ma non è questa la sede. Voglio concludere questa cosa qua facendo almeno intuire in che cosa consiste la risoluzione numerica di queste equazioni qua, utilizzando un certo approccio che è quello cosiddetto alle differenze finite. In buona sostanza si tratta, poiché queste equazioni non hanno soluzioni analitiche, si tratta di risolverle numericamente. Per risolverle numericamente si fa l'operazione di cui ha parlato anche Luca, cioè quella di discretizzare l'atmosfera secondo un reticolato nel piano e secondo una coordinata che segue l'andamento delle montagne lungo la verticale. Fatto questo, uno praticamente ha ridotto l'atmosfera ad un cubo, diciamo, e definisce ai vertici di questo cubo tutte le grandezze fisiche e approssima gli operatori differenziali mediante delle differenze finite. Quindi per esempio la derivata di u fatta rispetto a x sarà uguale al valore di u calcolato nel punto i meno quello nel punto vicino diviso la distanza tra i due punti. Questo vale anche per le derivate temporali. In definitiva io voglio qua mettere in evidenza solo questo, che facendo le cose fatte bene, chiaramente non in modo superficiale come sto facendo io, uno è in grado di ottenere per esempio la temperatura ad un istante, a un time step più uno, dalla conoscenza della temperatura all'istante meno uno, effettuando semplicemente delle addizioni e delle moltiplicazioni. Alla fine tutto si riduce a questo. Ed era l'unica cosa che mi premeva mettere in evidenza. Vediamo adesso come funziona la catena operativa meteorologica, cioè tutta quella serie di operazioni che consentono, partendo dalle osservazioni, di ottenere le previsioni meteorologiche sempre aggiornate 365 giorni all'anno. Allora il processo è abbastanza laborioso e lungo, comporta un dispendio di mezzi, di calcolo e di strumenti tecnologici importanti. Si parte dal sondaggio dell'atmosfera, che viene fatto in continuazione raccogliendo i dati provenienti da navi, aerei, palloni sonda, satelliti specialmente al giorno d'oggi e stazioni di misura al suolo. Tutti i dati certificati dal Servizio Meteorologico Mondiale, dal WMO, vengono collezionati da dei centri meteorologici internazionali e interpolati su quella griglia di cui vi ho parlato prima. Chiaramente non si tratta di un'interpolazione banale, ma di un processo molto complicato che comunque ha come risultato quello di ottenere i campi definiti su ciascun punto della griglia di cui vi ho parlato prima. A questo punto si mette in moto tutta la procedura numerica di cui ho cercato di farvi capire prima, che consente, partendo dallo stato iniziale, di ottenere l'evoluzione dello stato atmosferico. E questo realizza il primo stadio, cioè una previsione meteorologica su scala globale. Scala globale vuol dire tanti punti, tanta potenza di calcolo e un livello di dettaglio che non può essere quello necessario, per esempio, per le applicazioni di cui parliamo oggi. Quindi qua partono tutta una serie di, tecnicamente si chiamano nesting, annidamenti, cioè si collezionano le condizioni che vengono dal modello globale ai bordi di un certo dominio e si utilizzano per risolvere le stesse equazioni a risoluzione più alta. Quindi questo viene fatto, per esempio, a scala continentale, qua in Europa, poi dai centri meteorologici nazionali su un dominio ancora ristretto e con una risoluzione che arriva al giorno d'oggi tranquillamente sui 10 chilometri. Dopodiché i centri meteorologici regionali, e qua in Sardegna, per esempio, questo è un compito che istituzionalmente svolge il SAR, ex SAR, adesso ARPAS, vengono utilizzati per rannare dei modelli, diciamo, di maggior dettaglio, sono dei modelli che abbandonano delle approssimazioni che vengono fatte in tutti questi, sono cosiddetti non idrostatici. Questo consente di ottenere una previsione, in questo caso qua non si vede bene, ma queste sono, diciamo, linee di flusso del vento e il colore e l'intensità del vento. Questo ho volutamente messo il campo di vento relativo all'evento di incendio di Budoni. Quindi questo è il campo di vento a varie scale per il 26 agosto alle ore 15. ok? Quindi tutta questa roba qua, se si presentano le condizioni che possono creare un incendio, possono essere utilizzate in un modello di propagazione e alla fine, quello che vedremo, consentono di ottenere e susseguirsi dei fronti di fiamma per un caso reale. come quello di cui abbiamo parlato. Quindi se l'obiettivo è ottenere previsioni meteorologiche sempre più dettagliate per il problema specifico, abbiamo la necessità di disporre di mezzi di calcolo non comuni. Quindi il calcolo ad alte prestazioni, sino agli anni 90, diciamo, veniva fatto utilizzando dei calcolatori che venivano chiamati mainframe, che oltre ad essere supercalcolatori erano anche supercari ed erano a pannaggio esclusivo solo di pochi centri di calcolo nel mondo. Le cose sono cambiate negli anni 90, in quegli anni si è incominciato a diffondere il calcolo parallelo e si è incominciato a capire che utilizzando, questo è uno stanzone pieno di PC, si è incominciato a capire che utilizzando dei banali PC interconnessi tra di loro e usando il calcolo parallelo si potevano ottenere a relativo basso costo potenze di calcolo non comuni. Al giorno d'oggi praticamente i supercalcolatori anche in tutti i centri di calcolo, anche noi al CRS4, sono basati su cluster di PC. Quindi oramai l'interesse, il focus non è più quello di un calcolatore specializzato, realizzato utilizzando del materiale fatto in pochi esemplari, ma no, è quello di collezionare il miglior hardware commerciale a disposizione e assemblarlo sotto forma di cluster. Quindi l'interesse, il topic non è più la macchina in se stessa ma è l'hardware che lo compone. Qui ho in questa freccia qua riportato un attimo quelle che erano i primi processori, le prime CPU che erano basate su un single core, cioè vuol dire una singola unità era contenuta dentro la CPU che svolgeva i calcoli matematici. Poi al giorno d'oggi in un qualunque computer da tavolo ci sono delle CPU multicore, cioè in cui ci sono più unità di calcolo a virgola mobile all'interno. Ora questa roba qua è talmente diffusa che un banale iPhone o un telefonino qualunque di quelli moderni diciamo ha al suo interno un multicore. Diciamo che questo è diciamo ciò che comunemente si fa. Da qua in poi diciamo incominciano le cose un po' più particolari che quelle in cui noi intendiamo fare qualcosa. Si è scoperto per esempio che una grandissima potenza di calcolo è a disposizione anche nei PC di uso comune nelle graphical processing units, cioè nelle schede grafiche. Le schede grafiche sono dei potenti calcolatori paralleli che svolgono operazioni dedicate alla grafica. Siccome si ha la ricerca sempre di potenza di calcolo si è pensato perché non utilizzare anche questo potenziale per fare conti e quindi c'è tutta una linea di sviluppo legata all'utilizzo delle GPU per fare calcolo numerico. E ancora più complicato è l'utilizzo di queste schede qua di cui vi parlerò fra breve che si chiamano FPGA. Questo è un pezzo di hardware veramente immaginate come voler fare una scultura partendo da un blocco in forme. Allora la scultura c'è dentro però bisogna tirarla fuori. Uguale utilizzare queste schede FPGA per fare calcolo numerico e vedremo tra breve come. Questo grafichino qua è molto carino perché fa vedere che sì uno sta sempre cercando maggiori performance e le ottiene man mano che utilizza questo hardware, questo bell'hardware, però è chiaro che il prezzo da pagare è questo. La difficoltà di programmazione aumenta forse anche di più che le performance. Esattamente. Quindi è chiaro che utilizzare questi oggetti qua vuol dire spendere molto più tempo nello sviluppo dell'applicazione che utilizzare questi strumenti qui. Allora che cos'è il topic mio è questa FPGA. Che cos'è un FPGA? FPGA è un acronimo per field programmable gate array e in sostanza, qua ce n'è una raffigurata, è una matrice di porte logiche connesse, se uno potesse guardare al microscopio questa roba schematicamente, e qua è raffigurato quello che vedrebbe, una sequenza di porte logiche interconnesse da connettori che sono programmabili via software. Quindi l'utente con un lavoro non da poco, diciamo abbastanza complicato, può programmare queste FPGA per eseguire dei task specifici. Ok? Diciamo che è un po' lo stesso che fanno i banali chip specializzati che uno trova dentro i telefonini o anche dentro i pc, sono i chip o si chiamano anche application specific integrated circuits, fanno proprio questo. Uno deve svolgere una funzione, crea un pezzo di hardware che fa esclusivamente quella funzione lì. Chiaramente questa roba qua, questi ASIC, fanno un compito che viene deciso dal costruttore una volta per tutte. Le FPGA invece possono essere programmate dall'utente per svolgere compiti specifici e alla fine diciamo svolgono una funzione analoga a questi ASIC. Quindi questi dispositivi FPGA essendo prodotti in modo standard hanno un costo di produzione relativamente basso e questo potrebbe essere un vantaggio. Ancora più in dettaglio, cosa differenzia questa FPGA da un normale processore multicore di cui vi ho parlato prima? È la superficie utile che può essere utilizzata per fare i calcoli. In una CPU normale come quelle attuali il calcolo viene fatto dentro il core. I core in questa CPU per esempio sono 6, però l'altra parte del circuito della CPU viene utilizzata per gestire processi di input, output, controllo della memoria e così via. In realtà qua dentro, chi svolge dentro il core, chi svolge i calcoli veramente, è ancora una sottoporzione, è l'unità di processo in virgola mobile. Quindi alla fine, se uno va a vedere, di tutta quella superficie di processore, chi fa veramente i calcoli è circa il 6%. In teoria una FPGA può essere utilizzata per fare calcoli al 100%. Quindi questo già, a parità di superficie, di volume, di circuitazione, consente di ottenere un aumento di produttività dell'ordine di 20%. Ancora si può capire qual è il miglioramento che si può avere dall'utilizzo di una FPGA da un esempio banale. Ricordate, ed era solo per questo che ve l'avevo fatto notare, risolvere le mie equazioni si riconduce a fare delle moltiplicazioni e delle addizioni. Quindi immaginiamo di avere questo banalissimo problema, che è quello di prendere un insieme di numeri, moltiplicarli tra loro e aggiungerci una costante. È una schematizzazione di un problema molto banale, ma ci possiamo ricondurre nei casi pratici a questo. In una CPU uno che cosa deve fare? Utilizza un linguaggio di programmazione qualunque, per esempio qua il C, scrive un programmino in C, lo dà in pasta a un compilatore, questo genera un set di istruzioni comprensibili alla macchina che vengono trasferite in memoria, e si genera a questo punto una circolazione continua di istruzioni e di dati che consentono di svolgere queste operazioni qua. Quindi c'è da notare una cosa, per fare questa operazione qua utilizzo una superficie, come vi ho detto, molto ridotta rispetto a quella potenzialmente disponibile, ed inoltre c'è un continuo ricircolo di istruzioni e di dati, spostamenti continui. Vediamo invece come può funzionare lo stesso problema utilizzando una FPGA. Il problema è questo, io ho a disposizione un computer normale, ok, in cui c'ho la mia CPU e ci attacco, utilizzando un device PCI, ci attacco questa scheda FPGA. A questo punto io qua dentro ci devo mettere la mia applicazione in qualche modo, e questo non è banale, perché dovrei programmare a livello di porta logica. Tuttavia sono stati sviluppati dei compilatori che facilitano questo compito. Uno di questi è stato fatto da uno dei partner che ha citato giuditta all'inizio del CRS4, che è questa azienda londinese che si chiama MaxSeller. Questo compilatore consente di fare queste cose qua, consente di scrivere un codice con un linguaggio che ai più giovani è sicuramente conosciuto al giorno d'oggi, che è Java. Un codice Java che schematizza queste istruzioni qua. Costruisce un contatore che dice quante volte quest'operazione deve essere fatta. Definisce uno spazio qua dentro per contenere la costante 30. Definisce la sequenza di operazioni da svolgere, quindi moltiplicazione e addizione. Attiva, quindi tutto questo si riconduce a fare qualcosa che schematicamente qua io ho raffigurato così. Immaginate che qua ci siano tutta una serie di porte logiche che sono state modificate e connesse in modo tale da fare prima una moltiplicazione e poi un'addizione in sequenza. E qua c'è uno spaziettino di FPGA dove c'è dentro il numero 30. A questo punto non devo fare altro che attivare un canale di input che trasporta i valori da elaborare dentro la FPGA e un canale di output che estrae i valori di Y. E miracolosamente ho risolto il problema. Può sembrare strano, ma con un esempio che ho preso proprio dalle slide di presentazione di questa azienda qua, questo si capisce molto bene così, cioè il problema viene risolto in questo caso qua facendo questa operazione qua, lo streaming, cioè i dati vengono fatti passare attraverso l'applicazione e miracolosamente all'uscita ho il risultato. Vediamo un attimo, viene mandato dentro lo 0, lo 0 viene scisso in due, viene duplicato, vengono moltiplicati tra di loro questi due numeri, in questo caso ottengo 0, in un altro caso per esempio vediamo uno più interessante, il 2, all'uscita ho 4, il 4 viene mandato all'operazione di più, a cui viene mandato anche la costante 30 e in uscita ho il risultato che è 34. Ripetendo questa operazione, in questo caso per 5 volte, io ho risolto il mio problema. E qual è il tempo di esecuzione di questo codice qua? È molto ridotto rispetto al precedente, perché non ho un ricircolo continuo di istruzioni e di dati. Quindi chi circola, chi fluisce sono solo i numeri, solo i dati, le istruzioni sono belle e ferme lì e i dati ci passano attraverso, quindi il tempo di esecuzione è il tempo che impiegano i 5 numeri a passare attraverso il circuito, basta. Quindi questo consente di ottenere, diciamo, delle efficienze di calcolo notevoli. Manco a dirlo, questa applicazione in particolare si può ottimizzare alla grande usando anche il concetto di parallelismo, perché, e qua ho finito, eh, non vi... Se io faccio in questo caso 5 repliche di quel oggettino di cui ho fatto prima, occuperò una superficie di FPGA maggiore, però impiego un quinto del tempo. Quindi in questo caso qua, tutta questa elaborazione viene fatta nel tempo necessario affinché il numero passi attraverso l'applicazione. Ora, tutto questo l'ho fatto perché volevo farvi capire quali sono i potenziali offerti per il calcolo, per lo specifico problema del calcolo meteorologico dall'uso di questa tecnologia e anche per farvi intuire quali sono le difficoltà nell'utilizzo di questa. Quello che noi vogliamo fare al CRS4 è provare a portare un codice meteorologico su questo hardware per ottenere delle accelerazioni nell'esecuzione della parte meteorologica che possano essere poi tornare utili per fornire le condizioni al contorno per il modello di propagazione degli incendi. Quindi qua ho concluso la parte scientifico-tecnologica, adesso concludo facendovi vedere appunto il portale web all'interno del quale intendiamo e abbiamo anche attualmente allo stato di avanzamento attuale inglobato l'applicazione di propagazione degli incendi. Si tratta di un portale web, quindi di un portale che consente di avere accesso a calcolo e gestione dati semplicemente utilizzando un comune browser. Quindi basta un accesso a internet, si digita l'indirizzo web giusto, si seleziona tra tutti i servizi a disposizione che sono servizi di natura meteorologica e climatica, il servizio, questo qua che abbiamo battezzato Forest Fire, ma lo potremmo battezzare come chip in un altro modo, a questo punto vengono richieste le credenziali d'accesso, è un servizio chiaramente in cui uno deve essere accreditato, si accede a questo specifico servizio, la prima cosa è una descrizione del servizio, in questo caso qua si tratta della catena modellistica che vi ho fatto vedere all'inizio, cioè i modelli meteorologici alle varie scale sino ad arrivare alla scala di circa 3 km, in questo caso specifico. La gestione dei dati GIS fatta, come va detto Eva, che forniscono, i dati meteorologici vanno dentro la parte di GIS e tutto quanto viene dato in pasto poi al modello di propagazione degli incendi. Come si lancia l'applicazione? Selezionando alcune opzioni, una di queste per esempio è il dataset di dati meteorologici iniziali, qua ne abbiamo solo uno, quindi vabbè, però in teoria potrebbero essercene più di uno a disposizione, perché i modelli meteorologici che forniscono le condizioni al contorno utilizzabili sono molti, c'è il modello americano, il modello europeo, il modello canadese e così via. Qua abbiamo utilizzato il migliore in assoluto, che è quello del centro meteorologico europeo. Poi si può selezionare la data in cui si vuole eseguire la simulazione, in questo caso qua il 26 di agosto del 2004, dalla mappa Google si può selezionare il punto d'innesto, da qua si seleziona la durata del run, in questo caso qua io ho lasciato 72 ore evidenziate, ma in realtà per questo specifico esempio bastava una simulazione molto più corta, dell'ordine di 24 ore, partendo dalle previsioni, dallo stato iniziale alla mezzanotte. L'accensione dell'incendio... Da una tappa selezionata... Sì, esatto, esatto, sì. Se vado indietro, qua, vedi, 0-0, poi qua, questo è un menu a tendina, purtroppo non abbiamo internet... Del 26, esatto. Quindi parte la simulazione, siccome l'incendio è iniziato alle 15, mi pare, insomma dopo pranzo, adesso non me lo ricordo bene, quindi si è estinto peraltro prima della mezzanotte, sì, quindi dopo... E quindi vabbè, in ogni caso uno questo run lo fa a lungo, perché non sa quando va a finire l'incendio. E diciamo, sottomette questo run, questo macina numeri, alla fine, quando tutto quanto è finito, sono a disposizione, consultabili sempre dalla medesima pagina, i risultati, che per la parte meteorologica sono quelle mappe di vento che vi ho fatto vedere prima. vento, ma non solo, temperatura, precipitazione, se serve, e così via. Insomma, tutti i parametri meteorologici. Qua io ho messo l'evidenza sul vento, perché è quello più importante in questo caso. Alle varie scale, quindi prima su scala continentale, poi su scala nazionale, e quindi questa è la massima risoluzione attualmente, che è di circa 3 km. Ci siamo fermati qua, ma in realtà, essendo un caso, diciamo, di studio, potevamo in realtà fare le cose anche ad una risoluzione più spinta. Alla fine di tutto questo, parte il modello di propagazione degli incendi, che restituisce il file KML, che può essere visualizzato su Google. Quindi uno cliccando lì, alla fine, se avessi internet, ottiene la rappresentazione della propagazione del fronte ogni ora, mi pare, questo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, ogni mezz'ora forse. No, non ho capito, allora... Sì. ...il passaggio per dire... Sì. Eh, allora, vabbè... Sì, qua. Questo... Sì, sì, il file KML può essere visualizzato in qualunque modo, per esempio... che comprende costante... KML... Ebbè, parte... Se è associata all'applicazione Google Earth, è associata all'estensione KML, si apre proprio Google Earth e uno ci spiaccica sopra automaticamente il risultato. Non abbiamo internet, altrimenti glielo farei evadere. Basta cliccare sul file KML e uno ha una rappresentazione su Google Earth del fronte di fiamma. Sì, praticamente ho concluso, diciamo. Niente, alcune conclusioni. Il servizio è ancora chiaramente tutto da sviluppare, ma l'intento è quello di riuscire a fornire un servizio real-time a vari livelli di dettaglio, come ha citato Luca, che copra sia la parte meteorologica che quella di gestione dei dati GIS necessari che quella di simulazione e di propagazione del fronte di fiamma. Siccome appunto lo scopo di queste presentazioni era anche quello di fare un'offerta formativa verso eventuali studenti, quello che proponevamo, o mi proponevo di mettere in evidenza, era l'opportunità offerta a giovani studenti di effettuare uno steggio, anche una tesi, sulla specifica problematica del porting del codice meteorologico su questa architettura FPGA. Questo è un lavoro che non è stato ancora fatto a nostra conoscenza, non è detto che abbia successo, non è detto che abbia successo, ma in ogni caso consentirebbe alla candidata o al candidato di acquisire familiarità con questa tecnologia che ha notevoli potenzialità di utilizzo in molti altri settori. Ho concluso. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.